Cristina Pichler, Presidente dell'Istituto Promozione Lavoratori. Lo stato della concertazione in Alto Adige nel senso largo è sicuramente ampliabile, si fa troppo poco. Secondo le rilevazioni dell'Istituto, circa la metà delle grandi aziende hanno degli accordi aziendali. La contrattazione e il confronto nelle aziende è una cosa sulla quale si deve fare di più. Nuove relazioni sicuramente ci vogliono perché bisogna riconoscere le problematiche in anticipo, cioè quando avviene una cosa nuova bisogna interpretarla e bisogna trovare una soluzione. Poi bisogna avere conoscenza di tante cose a 360 gradi, del tipo la formazione, cioè la possibilità della formazione, tutte le prestazioni sociali, cioè non basta sapere o conoscere il contratto, bisogna avere una visione del lavoro a 360 gradi. Se prendiamo riferimento all'accordo del 2018 sulle nuove relazioni industriali e sulla contrattazione in genere, si potrebbe dire che ci sarà bisogno di fare questo accordo anche con le altre associazioni datoriali perché contiene proprio la volontà di una forte relazione industriale e anche dei modelli contrattuali futuri.